Quando sono arrivato a Pesaro ho rimasto incantato da quel molo che sta giù di fronte ai canteri Rossini. Quando lo vedi, un bellissimo, l'ho sempre fotografato, però ho detto ci manca qualcosa per renderlo superlativo. E così quest'estate a giugno invitai una ragazza ad aiutarmi a collaborare per fare queste foto e ho iniziato praticamente a scattare tutte queste foto mettendo e inserendo il dettaglio che sono le gambe della ragazza. Queste foto, devo dirlo nella verità, le feci vedere subito dopo fotografate a Lorenzo Uccellini. Io andai da lui, gli portai tutte le foto, lui disse Sergio stampa immediatamente questa foto praticamente perché è superlativa. Siccome tra me lui c'è un rapporto di stima e di fiducia, io immediatamente feci stampare le foto. Le ho pubblicate prima sui gruppi italiani e andarono molto molto bene. Dopodiché sai, vuoi per la competizione, vuoi per l'invidia, alcuni mi dissero sì, però tu se vuoi realmente renderti conto di questo successo, di questa foto, anzi usarono proprio un termine un po' particolare, cioè tu fai lo sbruffone qua, ma se vuoi realmente vedere e capire che le tue foto siano realmente di un certo livello devi presentare sui gruppi più importanti al mondo di fotografia. Accetta la sfida. E così la postai su Street Level Photography. Poi vedi l'approvazione. Dopo l'approvazione, in 48 ore, la foto raggiunge i 500 like con un mare di condivisioni. Disse, è possibile? Iniziai a capire che questa foto era talmente piaciuta e condivisa che le iniziamo a vedere in tutte le parti del mondo. Così la presentai sui gruppi mondiali di fotografia e sinceramente sbancai. Questa foto non solo sbancava tutti a livello di like, ma era condivisa in tutto il mondo. Cioè, diciamo, oggi è la foto più vista al mondo, sui gruppi più importanti di fotografia. Stanto in questa mostra erano mesi che praticamente non la postavo, l'ho postata sul gruppo di Enrico Artibresson e su Magnum Photo. Sono due giorni, già superiamo i 500 like. E questa foto sul gruppo Street Photography di Enrico Artibresson sta superando proprio le foto dei grandi fotografi conosciute negli anni 50. Cioè, quelle di Enrico Artibresson, Robert Capa. E mi sembra quasi di vivere un sogno. Adesso l'unica cosa, alla fine di questa mostra, vorrei, diciamo, donare questa foto a Pesaro, perché giustamente è scattata al molo di Pesaro. Però la vorrei lasciare in un posto dove praticamente è visibile a tutti. Cioè, non lo so, ancora tutto è da decidere, però una cosa è certa che questa foto la lascerò a Pesaro.